Allora, è proprio di ieri la notizia di una nuova aggiudicazione. Partiamo da questo tema. In effetti quello che è stato decretato è l'aggiudicazione provvisoria, nel senso che la Commissione ha verificato i nostri nuovi piani economici finanziari, i nostri, così come quelli dei concorrenti, e ha decretato la conferma dell'aggiudicazione che già fece l'anno scorso ad Autorini e Toscane. Ora bisogna aspettare poco tempo perché la Regione verifichi i requisiti, verifichi le dichiarazioni che abbiamo fatto e da quella verrà fatta una dichiarazione di aggiudicazione definitiva. Da quel momento noi potremo reiniziare, continuare gli audit, i controlli, le verifiche che stiamo facendo sui depositi da comprare, sugli autobus esistenti da comprare, sul personale da rilevare. Nel frattempo però anche ci stiamo preparando non soltanto a rilevare personale dei bossi, dei autobus esistenti, ma soprattutto ci stiamo preparando a realizzare l'offerta di trasporto che noi abbiamo indicato, descritto, qualificato nell'ambito della nostra offerta. Se si potesse quantificare in termini di tempi... Ma io penso che entro il mese di maggio noi riceveremo l'aggiudicazione definitiva. Questo farà anche il paio con l'audizione che è prevista il 6 di aprile al Consiglio di Stato, che è l'ultima fase, l'ultimo stadio della controversia amministrativa che è stata indetta, proposta, lanciata da Mobit. E quindi da quel punto in poi è considerato sei mesi, quindi entro la fine dell'anno possiamo iniziare i servizi.